Musica Noi riteniamo che sia necessario impiantare delle vere e proprie filiere per ogni settore dove si riesca a generare lavoro, occupazione e innovazione sul territorio e sto parlando sia di efficienze energetiche in edilizia che di settori come per esempio la produzione di biomassa a scopi energetici ed anche a scopi costruttivi. In questo momento infatti pur essendo la regione più boscosa d'Italia lo sfruttamento programmato della risorsa bosco non è conseguente un passo dopo l'altro. Per quello che riguarda le attività dell'agenzia noi facciamo la pianificazione per gli enti locali e seguiamo il patto dei sindaci e quindi accompagniamo gli enti locali nella ricerca di raggiungere e superare gli obiettivi che l'Unione d'Europa e l'Unione Europea ha dato a tutti gli stati e che noi abbiamo assolutamente sottoscritto. Quindi si tratta di fare pianificazione e di costruire cabine di regia grazie alle quali portare al massimo livello lo sviluppo delle energie rinnovabili e contemporaneamente ridurre i consumi, le emissioni e naturalmente tutto questo ha in sé una grande valenza anche economica. Grazie a tutti.